Nei primi anni del Novecento, anzi andiamo ancora più indietro, nella seconda metà dell'Ottocento, all'epoca del nostro risorgimento, una moda italiana non c'era, non c'era neanche un'idea di nazione, però non c'era ancora una moda italiana. Però appunto proprio perché durante i moti per l'unità d'Italia, già quindi intorno agli anni 48-50 dell'Ottocento, si levano delle voci isolate che cercano di promuovere l'idea di una moda italiana svincolata da quella francese, perché dalla metà del Seicento, dall'epoca di Luigi XIV, la moda, non solo la moda italiana, ma tutte le varie mode europee, parliamo appunto dell'Inghilterra, dei paesi germanici, della Spagna, eccetera, seguivano tutte quante l'indirizzo della moda francese, della moda di Parigi, della moda di Versailles, tant'è che la lingua anche della moda, fino a un periodo abbastanza recente, è stata della nostra moda, della moda italiana, era il francese, le persone eleganti parlavano francese, molti termini di moda erano francesi, pensiamo appunto a termini come taillère, non so, tantissimi termini erano francesi, tutto atelier, couturier, la moda era francese. All'epoca dei moti per la nazionalizzazione, cioè per questa idea di nazionale, per l'unità d'Italia, si levano, quindi come stavo dicendo, queste voci, una voce molto interessante, è quella di un giornalista che si chiamava Luigi Cicconi, il quale nel 1848 propone l'idea di un vestito all'italiana, vestito all'italiana che doveva essere, secondo la visione di questo giornalista, un abito, un completo realizzato in velluto e in velluto di Vaprio, che era questa piccola città dove veniva prodotto questo tipo di velluto, quindi non soltanto un abito di foggia italiana, ma anche un abito fatto di una stoffa che doveva essere italiana. Questo tentativo di Cicconi cadde nel nulla e dopo questo tentativo, facciamo un salto, un balzo in avanti di una cinquantina d'anni, il tema di una moda italiana svincolata da quella francese viene ripreso al principio del 1900 da una sarta di Sondrio che si chiamava Rosa Genoni. Rosa Genoni partecipò nel 1906 a un'esposizione a Milano e in questa esposizione milanese lei decise di proporre degli abiti non ispirati alla moda francese, ma degli abiti di pura ispirazione italiana, dicendo ma come mai, visto che noi abbiamo questa straordinaria ricchezza artistica, dobbiamo continuare a ispirarci alla Francia quando possiamo ispirarci, non so, a Pisanello, Botticelli, eccetera, e quindi fa questa collezione ispirata ai pittori italiani del primo rinascimento con tutti questi vestiti quindi che si ispiravano all'arte e proprio uno di questi vestiti venne premiato all'esposizione di Milano con il gran premio della giuria e questo stesso vestito esiste ancora, è stato conservato, ecco ora lo vediamo, e fa parte della collezione di costumi della Galleria del Costume, anzi credo che adesso recentemente, proprio qualche tempo fa, ha cambiato il nome, si chiama Museo della Moda di Palazzo Pitti a Firenze, questo vestito che era ispirato alla Primavera del Botticelli realizzato in seta bianca e tullo completamente ricamato con piccoli fiori ispirati appunto al Botticelli. Quindi questo è un tentativo da ricordare, anche se ancora non si poteva parlare di una vera e propria moda italiana, però sono tentativi che poi in qualche modo si riveleranno utili. Il tema di una moda italiana in contrapposizione a quella francese in maniera più sistematica viene ripreso poi durante gli anni venti, soprattutto, insomma, durante l'epoca fascista, tra gli anni venti e gli anni trenta. Se negli anni venti il tema di una moda italiana era più legato a motivi di tipo retorico nazionalistici, quindi piano piano dagli anni venti agli anni trenta l'elemento economico invece diventa sempre più pregnante. E di questo poi ne parleremo al prossimo appuntamento.